Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Starscraper's Cave-In, edizione originale in inglese della Exi Studio che io ringrazio di cuore per avermelo proposto e inviato. Grazie ragazzi, è davvero un onore collaborare con voi ed un piacere recensirlo, anche perché l'avevo già addocchiato da diverso tempo, anche perché condivide la stessa ambientazione sci-fi di un altro gioco, Orbital, che vi porterò prossimamente, e titolo che sta per entrare in Kickstarter. Quindi condividendo la stessa ambientazione ho detto, ma visto che mi piace molto come ambientazione spaziale, poi tutte le cose sci-fi a me piacciono sempre da morire, prova a chiederlo per vedere appunto se è possibile recensirlo, e me l'hanno inviato. Quindi grazie davvero di cuore. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Cave-In è un gioco da 2 a 4 giocatori, dell'età media dai 12 anni in su, comunque sì, mi ci ritrovo particolarmente perché è un gioco veramente velocissimo, e la durata di una partita si va dai 45 ai 60 minuti. In questo gioco siamo i boss di una società mineraria, e dobbiamo assumere mercenari per andare su un pianeta a scavare ovviamente i suoi minerali. È un gioco competitivo, quindi si gioca uno contro l'altro, anche perché nelle regole, come vi farò vedere dopo, c'è la possibilità di andare a fare un ride direttamente a una base avversaria, per andargli a levare carte e un po' a sabotare i piani, e dovremo andare a scavare questa minera fino a che non ci collasserà addosso. Al momento che collasserà, la partita sarà finita e si andrà a fare la conta dei punti. Quindi è un gioco decisamente logistico, dove bisogna mettere le carte nel momento giusto, ma è tutta una corsa non soltanto a fare il punteggio, quanto a rubare punti o comunque risorse da investire per scavare, in questo caso qui scavatori, mercenari e cose del genere, per appunto fare più punti dell'avversario. Quindi non soltanto farne più noi, ma togliere anche la possibilità all'avversario di fare punti. Secondo me è un gioco veloce, immediato, veramente c'ha tre regole in croce, il manuale ve lo faccio dire c'ha pochissima roba, ed è veramente interessante. Vi faccio un po' vedere come funziona, ma prima di tutto, unboxing, confezione abbastanza grande, più che altro larga, nemmeno tanto quadrata, non molto spessa perché ve l'ho detto, non c'è tantissima roba dentro, e il disegno che c'è sopra mi piace da morire perché ricorda un po' anche come vestito lui con questa specie d'armatura potenziata, una specie di Warhammer 40.000, qualcosa del genere. Ed è molto bellino e accattivante perché fa vedere questo gruppo di mercenari appunto, anche con robot, mandati dentro questa miniera appunto per scavare. Apriamo! Regolamento di gioco, che vi dico la verità, fra tutti quelli visti fino ad ora è uno di quelli non solo organizzati meglio, perché come dico sempre, regola, figura, esempio. Cioè tutto, regola, figura, esempio. Quindi te lo spiega tre volte, la stessa cosa che una volta che l'ha letta ti resta in mente per forza, e poi è veramente velocissimo. Già arrivati qua giù c'è la fine del gioco con i relativi punteggi, quindi velocissimo, otto pagine. Totem, delle varie fazioni divisi per colori che possono essere guadagnati, e una volta che li guadagnate avete praticamente un bonus all'interno del gioco. Tabellone della miniera, che ogni volta che verrà fuori questo simbolo su uno scavo, dovrete procedere andando avanti. Quando arrivate in fondo, praticamente la miniera collassa e il gioco finisce. Setup per due giocatori a sette, per tre a otto e per quattro a nove. E qui dovete metterci tutte quante le carte. Segnalini miniera, quindi le cose che potete andare a minare, divise appunto per i vari colori. Regola vuole che per minare qualcosa ci dovete mandare minatori dello stesso colore, oppure nel caso giochiate in meno di quattro giocatori e una delle fazioni di colori non sia presente, se quel colore non è presente in gioco ci potete ovviamente mandare i minatori di qualsiasi colore. Basta almeno che la squadra sia sempre dello stesso colore. Quando c'è questo simbolo che invece vedete qui, vuol dire che una volta minato questo si va avanti sul tracciato che vi ho mostrato prima. Bustine, ce n'è veramente un bel po' per conservare tutto. E mazzi di carte, che sono mazzi di carte soprattutto per i mercenari, per le reliquie e per le azioni che potete fare in gioco. Vi faccio vedere un po' come funziona. Quelle che vedete qui sono tutte le miniere divise per i colori che ci sono nel gioco. Ovviamente in più c'è anche il colore rosso che non abbiamo messo. All'inizio del setup della partita le dovete dividere tutti quanti per costo di mining. Vedete che è quello qua giù in fondo. Quindi questo costa 1 e ci mettete tutti quelli da 1 di un colore. Quindi in questo caso quelli viola come vedete sono di più. Ovviamente devono essere mescolati. Devono tutti quanti essere mescolati. Poi ci mettete quelli da 3 sulla striscia sopra, quelli da 6 e in cima quelli da 10. E questi qua sono tutti quanti i totem delle fazioni che vi faccio vedere successivamente. Ciascun giocatore sceglie una fazione. Comunque le date, vedete, un colore. E gli date la scheda dove c'è scritto il turno. Come funziona il turno, come gira il turno, non so Mario. Poi questa qui è la plancia degli scavi. Come vi ho fatto vedere durante l'unboxing, ogni volta che scavate qualcosa che ha questo simbolo qui, questo triangolo, questo lo mandate avanti. Se è una partita a 2, finisce al settimo turno. E così via nel caso di 3 o 4 giocatori, 8 e 9. Quassù dovete mettere le carte artefatto divise in gruppi da 4, quindi in 3 gruppi da 4. E qua sotto dovete mettere le miniere pescate casualmente, che dovete mettere 4 da 1, 3 da 3, 2 da 6 e 1 da 10, che si vadano in pilare. C'è sempre la richiesta di punti che ci vuole per minarla, e soprattutto i punti che vi dà a fine vittoria. Minare una miniera da 1 costa un punto, minare una miniera da 6 costa 6. Quassù ci sono le carte dei mercenari che potete assoldare. E ovviamente anche queste sono divise per i 4 colori che sono in gioco. I mercenari vanno da un livello 1 a un livello 4. E ora ve li faccio vedere scoperti, affacciali in su. Però dovrebbero essere sempre coperti e mescolati fra di loro, perché qui vi ho messo tutti quelli blu, qui tutti quelli gialli, invece no, dovrebbero quelli da 1 essere messi tutti insieme, quelli da 2 essere messi tutti insieme, e così via. Vedete sotto ce n'è anche a livello 2, e ciascuno di loro ha un simbolo, che vuol dire se l'abilità viene utilizzata subito, quindi quando giocate la carta, se viene giocata in un turno successivo, seppure rimane sempre in gioco. Hanno un costo, qua su un cima, che vi faccio vedere come si prendono, e regola vuole che voi, per andare a prendere un colore che vedete qua sotto, quindi andare a minare, ad esempio in una miniera blu, se in gioco c'è la fazione blu, per forza ci dovete mandare dimensionari blu a scavare, perché se no non la potete minare. Nel caso la fazione blu non fosse presente, ve lo faccio vedere così direttamente, e ci fosse al suo posto quella rossa, per andare a minare qualcosa di blu, ci potreste, visto che diventa un metallo selvaggio, una miniera selvaggia, ci potreste mandare qualsiasi altra fazione. L'unica differenza è che non potete mai mischiare i mercenari, cioè le fazioni lavorano per contolore, non si possono alleare. Quindi se voi volete andare a minare una blu e non ci sono i blu, ci potete mandare anche i gialli, ci potete mandare anche i viola, ma non potete combinarli. Per andare a minare qualcosa, si vanno a pescare inizio tante carte in mano, quanto ci dice il regolamento, e le carte azioni in questo gioco sono sempre i mercenari che abbiamo, nelle azioni che si possono fare. Vedete, ciascun mercenario qua su in cima ha un costo 1, 1, 1 e 1, che è anche la sua potenza per andare a minare. Quindi, come detto, questo nel caso, visto che non c'è il blu, è il cristallo selvaggio, se io giocassi questa carta qui, ha un costo di 1, ma anche una potenza di 1, quindi la potrei mettere in campo per andare a minare questo, e lo prendo e me lo porto via. Una volta che li togliete, devono essere sostituiti da altri, presi nella riserva che vi ho fatto vedere prima. Più ciascun personaggio ha un'abilità, e l'abilità la potete utilizzare soltanto quando arriva il momento di utilizzarla nel turno. Quindi, se è un'azione, non lo potete fare nel momento in cui mettete in campo le carte, ma nello step successivo. Per arruolare mercenari di costo più alto, quelli di livello 1, sono gratuiti. Con l'azione che potete fare, ne potete arruolare uno. Per prenderne uno di livello 2, dovete giocarne uno di livello inferiore, quindi ne giocate uno di uno per prenderne uno di due. Per prenderne uno di livello 3, ne dovete giocare uno di livello 2, e per prenderne uno di livello 4, dovete giocarne uno di livello 3. Le carte artefatto, che ovviamente vi danno dei bonus non indifferenti a livello di gioco, le dovete pagare con il costo che è quassù uguala. Ancora una volta, giocando carte mercenari. Non hanno colore, eh? Quindi potete giocarli di qualsiasi colore, con la differenza che non potete mai mischiare alle fazioni. Nel turno, ciascun giocatore ha due azioni che non possono mai essere la stessa, almeno che una carta non ti faccia con la sua abilità rifare la stessa azione, allora sì, e sono reclutare mercenari, che vi ho fatto vedere, andare a minare cristalli, collezionare artefatti, che è quello che vi ho detto ora, o utilizzare un'abilità speciale. Quindi potrei utilizzare un'abilità speciale e minare, potrei arrollare un mercenario e prendere un artefatto, ma non potrei fare due volte la stessa azione. Un'altra azione che si può fare, ovviamente il tavolo non è tutto qui, immaginate lo diviso, ogni giocatore ha il suo lato. Potete andare a fare un raid, sprecando tutte e due le vostre azioni, potete fare un raid a qualsiasi altro giocatore, per andargli a rubare le sorse. Regola vuole che più di sette carte in mano, non potete mai avere. Ovviamente potete avere carte di tutti i colori, potete avere una gialla, una viola, due rosse, una verde, basta che non le giochiate tutte insieme. E potete avere un massimo di sette carte in mano. Quando le giocate, mettiamo caso, io per fare una prima azione, ho giocato lui, e mi bastava l'uno, e mi sono preso questo qui, che me lo metto dalla mia parte di tavolo, perché me lo sono nominato, me lo metto nella mia riserva. Quindi lui è qui. La seconda carta che vado a giocare, boh, mettiamo caso che sia una di colore giallo, le dovete mettere sempre così, a scalare, che si vedano il colore e il numero in cima. Perché l'ultima carta che giocherete, e vi ricordo che le carte azioni sono sempre mercenari, l'ultima carta che giocherete quel turno, prima di passare alla fase successiva, sarà diventato il vostro boss. Quindi nel caso, se avessi giocato per ultimo questo, nel turno successivo, questo è il mio boss attuale, perché quando venite raidati, un giocatore che vi raida, può rubarvi tutte le carte che avete qui, andando a ritroso, quando uno vi raida, il boss vi torna in mano. Quindi il boss non ve lo possono mai raidare, il boss torna in mano al giocatore, che sta venendo raidato. Però, durante il saccheggio appunto del raid, le carte si iniziano a prendere, prima quella sopra, poi quella sotto, e così di conseguenza, e ve ne possono portare via, fino a che non ne hanno un massimo di 7 in mano. Quindi se è quello che vi viene a fare il raid, ha già 6 carte in mano, ve ne potrà rubare al massimo una. Raidando, ovviamente, e rubando carte di un colore, si ha la possibilità di prendere, da un qualsiasi altro giocatore, qualsiasi, non quello che state raidando, anche qualsiasi altro, il token, dello stesso colore, degli NPC, dei mercenari, che siete andati a raidare. e quando avete questo token qui, questo totem, vi dà dei vantaggi disumani, e ovviamente, se riuscite a tenervelo, fino a fine partita, guadagnerete più punti. Quindi, questo è un gioco, tutto qua, poi ovviamente, c'è anche una fase di clean up, ovviamente, si vanno a ripescare carte, comunque, cosa principale vuole, che ogni volta, che giocate una carta, di qualsiasi colore, le dovete sempre impilare, così, ne potete avere, massimo 7 in mano, e l'ultima che avete giocato, è il vostro boss. Quindi, è tutta quanta una gara, a non liberare tutta quanta la miniera, ma a minarla, fino a che non arriverà a collassare, e ovviamente, il giocatore, la fazione che avrà guadagnato più punti, vincerà la partita. In poche parole, KVN, è un gioco, come li voglio chiamare, a volte filler, perché è un gioco, che non è un termine dispregiativo, se è chiaro, per me, un gioco filler, vuol dire che invece, guadagna più punti, rispetto a tanti altri titoli, perché dove lo metti, lo metti, una partita, ci si fa sempre. Questo è il classico gioco, che lo butti in qualsiasi tipo di gruppo, li fai divertire. Ovvio, c'è anche da stare attenti alle carte, c'è, più che altro, la versione per ora è soltanto in inglese. C'è anche da dare un'occhiata alle tattiche, da cercare di capire, quello che vorrà fare il vostro avversario, nel turno successivo, con le sue due azioni. Insomma, c'è da vedere un po' di cose, la logistica c'è. Però, è un gioco alla fine fine di carte, abbastanza veloce, prendi risorse, perdi risorse, prendi mercenari, e perdi mercenari, comunque. Forse la longevità non è dei più estremi, però, occhio, non è anche un gioco che ci puoi giocare tutte le sere, che non è un Nemesis che ci potresti giocare tutte le sere, tanto, proprio per come è fatto quel tipo di gioco lì, la storia cambia sempre, o anche gli obiettivi. Qui, lo scopo è sempre lo stesso, è vincere i punti, però, secondo me, è il classico gioco, il portato dietro è fatta una partita, fra un gioco e un altro, oppure ogni tanto per cambiare, secondo me ci sta veramente da Dio. Se gli devo dare un voto, gli do assolutamente un 7 su 10, meritatissimo, gioco filler, per me vuol dire che davvero lo puoi mettere in mezzo a qualsiasi osa, lo puoi portare ovunque, e sono convinto che farete divertire chiunque al tavolo, quindi ve lo consiglio assolutamente, poi vabbè, il disegno sulle carte, anche l'arte che hanno utilizzato, i tipi di disegno, la colorazione che mi piace a me è molto molto carina, accattivante, non c'è tantissimo contenuto, l'avete visto, però insomma quello che c'è fa la sua porca figura. Quindi un 7 su 10, meritatissimo, vi ricordo che se lo volete ordinare, giochi da tavolo e giochi di ruolo, primo link in descrizione, e insomma in pressione da board game discount, ai migliori prezzi sul mercato, in più potete pagare i loro giochi a rate, in tre rate, senza neanche fare un finanziamento, quindi andate a darci un'occhiata. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, e secondo me tante volte me l'avete chiesto anche in live, però è un gioco veloce da fare con mio figlio, un gioco veloce da fare con mia moglie, questo è un gioco velocissimo, da fare praticamente con chiunque. Ciao ragazzi, alla prossima.